Abbiamo pensato di coprire anche per questa fascia di età l'estate con queste aperture straordinarie di modo che le mamme possano andare, o i babbi, con i propri bambini a passare un momento, infatti il tema lo dice proprio, spazio e tempo per le famiglie, dove c'è uno spazio e un tempo dedicato al bambino, dove il bambino sperimenta anche dei materiali nuovi, bambini che magari non hanno mai frequentato il nido, perché ovviamente è aperto a tutti, anche ai non iscritti, di conseguenza il bambino pone le prime reti per relazionarsi con il coetaneo, che nel momento in cui la mamma ha un quesito, un dubbio, l'educatrice è pronta anche a darne una risposta, perché sono educatrici professioniste veramente nel settore. In quali orari rimarrà aperta la struttura? Abbiamo deciso di aprirlo nel mese di luglio, tutti i venerdì, dalle 18 alle 20. Il messaggio che vorrei che passasse è che l'amministrazione e la famiglia non la lascia sola, soprattutto in questo momento particolare di vita di bambino piccolo, dove sembra veramente che sia il momento più importante della vita.